San Tommaso d'Aquino San Tommaso d'Aquino afferma che è compito del demonio quello di tentare, tentare l'uomo al male però precisa anche che molte tentazioni non prevengono dallo spirito tentatore, dal diavolo ma dalla propria coscienza o concupiscenza che lo attrae e lo seduce nel contempo Dio non tenta mai nessuno altrimenti non sarebbe più Dio circa la frequenza e la violenza delle tentazioni dobbiamo dire che viviamo con loro e siamo schiavi di loro il temperamento alcuni sono deboli di volontà e rimangono sconvolti nelle tentazioni invece altri più forti si ritrovano calmi e sereni abbiamo l'educazione questo sono alcuni elementi che poi ci fanno sbagliare l'educazione chi è formato nel timore e nell'amore di Dio e nell'impegno di comportarsi bene dà dei vantaggi nelle tentazioni rispetto a chi è abituato ai piacere e al proprio comodo il disegno paterno di Dio secondo i progetti del Signore lo ha stabilito per ogni uomo permette la tentazione per l'esercizio della virtù quindi è vero che Dio permette la tentazione ma mai al di sopra delle nostre forze l'importanza della vigilanza il demonio non rinuncia mai al possesso della nostra anima e se ci lascia un po' in pace è per ritornare all'assalto nel momento meno che noi lo aspettiamo la vicinanza presuppone il contatto con i nostri senti la lotta contro l'ozio il frequente impegno a superare le difficoltà della vita e impegnarci in propositi di rimozione delle nostre passioni la preghiera, la vigilanza da solo non basta il controllo più attento e gli sforzi più generosi risulterebbero vani senza la grazia del Signore Dio è interessato alla nostra vittoria possiamo quindi invocarlo sicuri che altro non desidera che venirci in aiuto Padre Pio e gli assalti del demonio gli interventi diabolici nella vita di Padre Pio dimostrano l'intento di volerlo allontanare da Dio e renderlo inattivo nelle opere della salvezza Padre Pio è un testimone autorevole contro tutti coloro che in teoria o in pratica pretendono negare la lotta contro il nemico che tenta a distruggere l'opera redentiva di Cristo il demonio si era proposto di strapparlo all'amicizia di Dio in un duello sfrontato quasi ininterrutto tra Padre Pio e il suo maggior nemico tentazioni, astuzie, apparizioni diaboliche assalti violenti Gesù assicura a Padre Pio che gli interventi del demonio sono un mezzo di purificazione quindi in sé per sé anche le tentazioni e gli infusse negativi del demonio sono per il fine buono della nostra anima Gesù dice a Padre Pio non temere io ti farò soffrire ma te ne darò la forza a Padre Pio a Padre Pio Grazie per la visione!